Dal 1 settembre dovrà esserci un controllore su ogni autobus. Queste le linee guida sul trasporto inviate dal Ministero al Comitato Tecnico Scientifico e alle regioni, in cui si prevede anche l'estensione del Green Pass per treni, aerei e navi a lunga percorrenza. A quanto si apprende, su ogni autobus dovrà esserci un dipendente della Società di Trasporto, atto a controllare non solo i biglietti, ma anche il rispetto delle misure anti-covid, dalla capienza massima dell'80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina. È un provvedimento irrealizzabile che non potremmo sostenere, ha dichiarato al TG6 il presidente del trasporto unico abruzzese Gianfranco Giuliante. Non è sicuramente una cosa realizzabile nel periodo breve di cui stiamo parlando e neanche da un punto di vista prospettico, ritengo. Immaginate la tua a 800 autobus, se dovesse avere 800 controllori, significherebbe spendere 40 milioni in più facendo saltare il bilancio. Oltre al fatto che, lo ripeto, le dinamiche sono diverse perché se c'è il trasporto exturbano con una salita e una discesa è un discorso. Se poi queste regole dovessero essere ipotizzate anche per il trasporto urbano salterebbe il sistema. Ogni controllo, ogni 500 metri, quando mediamente c'è una fermata di chi scende e di chi risale, naturalmente creerebbe problemi, oltre che di natura tecnica, anche di natura giuridica, perché la tua non ha del personale che può permettersi di chiedere il green pass o di obbligare l'utente a mettere la mascherina, che sono evidentemente competenze che non può avere un controllore semplice che normalmente ha detto ai biglietti. Il trasporto pubblico è un nodo cruciale anche in vista della riapertura delle scuole, che in Abruzzo avverrà il 13 settembre. Per evitare che gli studenti si affollino sugli autobus, si è al lavoro su una soluzione già adottata lo scorso anno, quella degli ingressi e delle uscite in orari scaglionati. Questa è la soluzione già testata e che ha dato risultati migliori. Poi dipenderà molto da quelle che sono le esigenze della scuola, perché essendo cambiate le percentuali e non essendo in questa fase previsto come il passato un forte utilizzo della didattica a distanza, queste dinamiche potrebbero cambiare. Naturalmente per quello che riguarda il trasporto, questo può creare delle complicazioni circa l'affollamento sia all'ingresso sia per quello che riguarda gli autobus.